Ciao a tutti ragazzi, io sono Cielophysis e oggi siamo qui in questo nuovo video della Fantasticraft. Nello scorso episodio abbiamo fatto tantissime quest e oggi ne facciamo altre tante. Stiamo andando verso l'oceano. Controlliamo un attimo delle cose. Strange Creators. Perfetto, dobbiamo uccidere anche quelli lì, visto che ci siamo. Buongiorno! Muori! E muori anche te. Voilà, mamma mia ragazzi, stiamo finendo tutto il gioco praticamente. Abbiamo una larva cotta, la mangiamo. Poi abbiamo un'altra cosa qui. Il macete, questo fa 6 di danno. Abbiamo anche una spada pesce. Perfetto, molto molto utile. Allora, andiamo verso il mare, ci serve la clay e dei pesci. La Blood Moon. Dove, caspita, cosa facciamo adesso? Allora, possiamo tentare di scappare in mare, tanto c'era un'isola, mi ricordo. Allora, abbiamo poco tempo, però. Direi di provare a scappare in mare, che c'era un'isola dove potremmo stare sicuro. Però prima uccidiamo questi polli. Uno. E basta. Ah, comincia a laggare per i mostri. Un meteorite! Ragazzi, meteorite! Scappiamo, scappiamo. Allora, i mostri cominciano a spawnare. Dobbiamo andare in mare subito. Quanti maledettissimi slime! Quanti slime nel cervello, staccati! Ok, siamo salvi. Staccati! Siamo salvi. Giusto? Siamo salvi, ma affamati. Lì vedo un pesce. Mamma mia, lì si schiava tutta un'altra meteora. Ok. Siamo salvi, per ora, eh. L'oceano è anche abbastanza illuminato. Comunque non ci sfona niente in acqua. Tanto sulla terra succedono cose brutte. Ok, allora. Io ho fame, il problema è questo. Quindi mi mangio un pollo. Però prima andiamo qui sotto a qualche parte. in un bug d'acqua, ecco. Oh! Perché ho detto... Vabbè, allora. Cerchiamo i pesci. Forse ne vedo uno da quella parte. No, mi sa che sono qui cosi... magici. Sì, forse è un po' una scemenza andare... a pescare durante la luna di sangue. Però... Eh, ho niente. Semplicemente andiamo a pescare durante la luna di sangue. I creeper... Allora, quella è l'isola che volevo raggiungere... ma mi sembra un po' piena di mostri. Anche i creeper spawnano di più durante la luna di sangue. Arriva! Arriva! E' anche super caricato questo! Muori! Sì! E' morto! Grande! Magari facciamo anche la sua quest. Questa la posso usare, no? Perché non ho le frecce. Eh, l'isola... E' piena di cose. Di mostri. Ok, diamocene sotto... qui sotto, va? Non vedo niente. Aiuto, perché non ci vedo niente? Perché l'acqua è profondissima! Torniamo subito su! Prima di morire! Aiuto! Sto morendo! Sto morendo! Un pesce! Dove? L'ho visto! Ma guardate... Eh, dove caspita è adesso? Eh, non ci si vede niente con la luna di sangue. Facciamo una cosa. Io direi di... Che io mi metto in uno dei bug subacquei. E ci resto fino a domani. Allora, mi sto avvicinando pericolosamente all'isola. Però i mostri non mi possono seguire sott'acqua. Mettiamoci qui! Mai posso dormire! Allora, sperando che... Il bug rimanga così. Sì! Vai, bug, rimani! No, il bug non è rimasto. Ok. Siamo... Siamo salvi, in teoria, qui sotto. Allora, dovevi riuscire a dormire? No, perché la Blood Moon non fa dormire. Peccato. Vabbè, allora rimango in questo buco fino a domani. A dopo. Mi stavo annoiando, quindi sono fatto un laghetto artificiale. Adesso cercherò di pescare un po'. Anche se mi sembra un po' improbabile in quest'acqua qui. Però qualcosa è successo. Vediamo. Sto pescando qualcosa? Messaggio in una bottiglia. E che... Hai mine for fish? Va bene. Io voglio trovare dei pesci nuovi. Non voglio trovare messaggi segreti. Dai, una scatola! Con dentro uno smeraldo, che è anche buono. Ma io non lo voglio. Qua è dato l'acqua se... Ma dove... Ma co... Mi è sparita la canna della pesca e mi è apparto un pesce al suo posto. No! Ma scusa, io l'avevo craftata con tanta fatica. Ma è sparita! No ragazzi, io me la giveo, scusate eh. Anche se era fatta con due pezzi di ferro, io me la giveo lo stesso. No, dai! Cosa del genere non possono succedere. Ragazzi, me la sono giveata perché ci sono ribasso davvero malissimo. Di come mi è sparita in mano e mi è apparto il pesce. Comunque il pesce nuovo alla fine l'abbiamo trovato. Guarda, un altro anche. Vediamo un pochino quante ne vuole la quest. Ah, possiamo prendere delle... Delle ricompense. Ah, quella per i polli. Devo scegliere se prendere il... Prendo le uova. Vabbè, poi strane creature strane. Questa qui l'abbiamo fatta. Ah sì, ma l'abbiamo già fatto prima. Allora... No, quella degli slime, ecco. E quella dei pesci, quant'è che ne vuole? No, questa l'abbiamo fatta, eh. Iron fish. Si è buggato. Vabbè, comunque. Questi qui ne vuole cinque. E quindi me ne mancava uno soltanto, ok. Ho preso un po' di pesci, in teoria mettendoli qui. Ecco, fanno il filizio di pesce. Che poi si può cuocere. Adesso tutti questi li trasformiamo. E continuo a pescarli. Apriamo le borsette. Testi di creeper che metterò qui sotto. E... Questo. Ferro. Va bene, andiamo a controllare se è giorno. Sì, è giorno, evviva. Finalmente. Mamma mia! Ah! Sempre si cavolo di slime del cervello. E sti zombie qui che cavalcano i ragni. Allora, l'arpione, presto. Cerchiamo i pesci, allora. Lì ne vedo uno, ma è piccolo. E... Basta. Tutto qui, davvero. Non c'è altro. Vabbè, mi sa che devo continuare a nuotare per un po' per vedere se ne trovo qualcuno. Guadali! Ma io lo pesco, questo? Sì! Una manta abbiamo! Ragazzi, abbiamo preso una manta. Io vedo tante entità nel... Nella mappa Però non capisco che caspita siano Qui sotto non c'è niente Ah ok così si vede Guarda quante mante Ma non sono loro che ci interessano Noi Oh scusa eh Ma io vedo centinaia di entità Proprio dove sono io adesso Dove caspita sono Non c'è niente qui Oh Ho trovato delle aragoste Ma che mi servono? Io le piglio Lobster No l'ho liberata Ma perché mi si è rotto retino Ma non ci posso credere Ok purtroppo questa pesca È stata completamente infruttuosa Direi ragazzi che per oggi è tutto E noi ci vediamo Ah presto usciamo dall'acqua Ah presto presto Ok mamma mia tre cuori Direi che per oggi è tutto Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti